Dopo sette anni arriva alla conclusione la vicenda di Acer, azienda casa Emilia Romagna di Follice Sena. Assolti con formula piena dalle accuse di peculato e abuso d'ufficio, Ellero Morgagni, Paolo Bergonzoni, Roberto Santolini, Gabriele Borghetti, Francesca Pirini, Maurizio Menghi, da quella di abuso d'ufficio Sergio Lorenzi e Marcello Casadei, e per Giorgio Guarniero Roberto Padovani il reato va invece in prescrizione. Si chiude in questo modo in corte d'assise il processo ai vertici di Acer iniziato nel 2009. Le indagini erano partite dopo la denuncia di un imprenditore che aveva dichiarato di essere stato escluso dagli appalti perché uscito dal consorzio creato da Acer, Image. Per partecipare ai lavori edili e sosteneva l'imprenditore era necessario entrare a far parte della società consortile, versando il 7% dei lavori fatturati. A questo si erano aggiunti 500.000 euro di Acer persi durante il tracollo della Lehman Brothers del settembre del 2008, i 435.000 euro spesi da Acer in cene ed eventi e 914.000 euro in consulenze. Sul banco degli imputati sono finiti i componenti dell'ex consiglio di amministrazione di Acer, guidato dall'allora presidente El Romorgani e di quello di Image. Secondo il collegio giudicante, le accuse erano totalmente prive di fondamento.